Tenere la mente aperta è proprio quello che il CICAP non fa, perché si sono fatti strumentalizzare e io li vedo molto accaniti su alcune figure, molto poco su altre. In realtà Piero Angelo è risaputo che nella sua famiglia, quindi il padre, il nonno, la massoneria fosse di casa e quindi massoneria anche di alto livello. In realtà la massoneria, io non sono pro massoneria perché sono dell'idea che nel 2021 non serva riunirsi in associazioni per parlare di queste cose. Ci riuniamo noi su YouTube senza chiedere soldi, senza dire forse un giorno vi verrà detto, la conoscenza è libera.